E' stato vicepresidente e responsabile del settore minori e famiglia dell'ASP, l'azienda servizi alla persona dell'ambito sociale di Iesi, ha 57 anni ed è un professionista di esperienza. Ha preso servizio questa mattina Riccardo Borini dopo aver accettato a fine maggio l'incarico di coordinatore dell'ambito territoriale sociale 6. Il primo impegno sarà un incontro con il comitato dei sindaci che si terrà nei prossimi giorni per discutere gli obiettivi e le priorità. E' necessaria, ha detto Borini, una uniformità di servizi, una integrazione sociale e sanitaria con il terzo settore affinché i cittadini possano godere di una rete sociale che crei benessere. Abbiamo tante fragilità presenti oggi nel territorio, a partire dai minori e dalle famiglie in difficoltà. Bisogna senza altro intervenire in prevenzione, dobbiamo evitare assolutamente gli allontanamenti dei minori dalle loro famiglie, sia in affido sia in comunità educativa, non solo per un discorso economico ma perché dobbiamo fare in modo di accorgersi prima dei disagi e intervenire per tempo. Come dobbiamo, ne parlavamo prima con l'assessore, dobbiamo stare vicine alle famiglie, diciamo, delle persone, dei ragazzi, delle persone disabili non autosufficienti, parliamo di disabili, parliamo di anziani non autosufficienti, dove veramente la famiglia svolge un carico di lavoro molto importante e lente, diciamo proprio prima con l'assessore, non può assolutamente abbandonare queste famiglie. Ci sono già, non trovo un deserto dei tartari, ci sono già diverse iniziative che vanno implementate, vanno messe in rete e le esperienze virtuose in questo settore che dicevo, in altri settori, nelle povertà, diciamo, nelle dipendenze patologiche, nella salute mentale, le esperienze positive di Fano e degli altri comuni vanno diffuse nel territorio. Dopo il licenziamento di Sonia Battistini, le preoccupazioni e le tensioni all'interno dell'ambito, per il sindaco Seri la nomina di Borini è stata un'ottima scelta, condivisa anche dal mondo del sociale. Si apre una nuova pagina e sarà anche una grande occasione per vincere le sfide del futuro. Abbiamo perso del tempo, non per causa nostra, noi abbiamo cercato di risistemare, di far ripartire l'ambito e oggi a tutti gli effetti c'è questa partenza. Quindi auguro buon lavoro al dottor Burini, che è una persona, come dicevo, di qualità, professionalmente preparato e lo ha già dimostrato in carichi precedenti. Quindi sono molto contento perché diamo risposta ad un problema che si era creato in questo ambito ed era, penso, la risposta che l'utenza si aspettava.